Palla a due, Ferrero con la palla, gira, tiro da tre, Canestro, palla a Banzani che ribalta su Tosti, uno contro uno, Bugionovo sul lato opposto, ecco il rimbalzo di, oh becca il canestro ancora, Bugionovo che lavora per Di Costi, due punti per sotto, end off veloce, si spazia, tiro dal lato, due punti, palla a Giacomo Tosti, da tre, bomba, mano destra a tutto campo, canestro facile di Ferrero, Tosti, blocco, la prende invece Lucarelli, sul centro, tabellone, riparte forte l'Assisi, canestro facile, in punta, Ferrero, finta di pick and roll, numero 24, Filani, due punti facili, Assisi riparte subito, uno contro uno di Guido Providenza con la mano sinistra, ancora palla a Filani, sotto, buona, recuperata da Assisi, ecco Lucarelli, due facili per lui, un po' forzato di Gualdo, rimbalzo in attacco, di Costa, end off, Berti da tre, c'è, non va, palla recuperata, Gualdo forza, Berti, due facili per lui, numero 4, cola, esita, uno contro uno, Gramaccia, palla in punta, tiro da due, ottimo, Gualdo riparte, canestro facile, Ferrero, attacca forte sul centro, finta, e canestro, Gualdo riparte subito, due facili, hand off, Gualdo vuole giocare uno contro uno, tre, ribalta per Guido, attacca sul fondo, buona situazione per Lucarelli, due punti, andiamo sotto, uno contro uno, ottimo, canestro di Lucro, Giacomo Tosti in angolo, bellissimo, ottima soluzione, tiro comodo, ancora un tiro da tre, canestro, Giacomo Tosti a tutto campo, canestro facile, tiro fuori equilibrio, bravissimo Enrico, Gualdo attacco veloce, e canestro facile, palla a Banzani, Virtus in bonus, hand off, e canestro facile, uno contro uno, Banzani, sulla lunetta, porta fuori, e bellissimo, Banzani a tutto campo, tiro, Calestro, calestro, nooo, un tiro che non arriva minimamente al ferro, ma trova casualmente il rimbalzo, vale, tiro da due, e rimbalzo in attacco di Gualdo, Gualdo cerca di attaccare veloci, porto da due, fallo, fallo non fischiato, fallo non fischiato, e bomba, Gualdo trova fortunosamente, beh, si fa rubare il pallone, il contropiede di Gualdo, e due punti facili, Marini forte con la mano destra, si cerca Tosti, Provvidenza da tre, sì, cinque secondi alla fine, andiamo al tiro da tre, sì, la palla fa Giacomo Tosti, sul centro fortissimo, grande, vediamo se Gualdo butta la palla in aria, sì, ok, niente da fare, si va ai supplementari, si va al primo supplementare, via, attacca con la mano destra, beccane, Ferrero, tiro da tre, bomba, la palla fuori, cinque, quattro, Lucarelli da tre, Gramaccia, attacca Banzani, niente, numero due, pasticcia, ma situazione abbastanza complicata, Provvidenza, bomba, basta vincere questa partita, tira di Banzani, sulla sirena, cinque secondi alla fine, niente, fallo per la Virtus.